La NSA voleva fare colpo sui giapponesi, mostrargli le nostre capacità. Loro adoravano le immagini in diretta dai droni. Questo è sopra il Pakistan in questo momento. Furono meno entusiasti di sapere che volevamo che ci aiutassero a spiare la popolazione giapponese. Dicevano che era contro le loro leggi. Iniziamo a spiare comunque l'intero paese. E non bastò. Una volta messi sotto controllo i sistemi di comunicazione, passammo alle infrastrutture materiali. Piazzammo dei piccoli programmi dormienti in centrali elettriche, dighe, ospedali. L'idea era che se un giorno il Giappone non fosse più stato un alleato, avremmo spento la luce.